Erano in due, entrambi col volto nascosto da una mascherina anti-covid ed il cappuccio del keyway calato in testa. Uno si è fermato all'ingresso, non facendo più entrare o uscire nessuno. L'altro si è diretto verso l'unica cassa aperta con una pistola in pugno. Erano circa le 18.30 quando la coppia è entrata in azione al Pri di via provinciale a Fossò. In quel momento il supermercato non era particolarmente affollato. Sono stati attimi di forte tensione. Il rapinatore, che appariva piuttosto nervoso, ha intimato con accento veneto la consegna del denaro. Un bottino modesto, visto che l'incasso della giornata era già stato versato. Non se lo aspetterebbe nessuno, penso. Sicuramente il periodo è quello che è. Credo che tanti siano comunque in difficoltà e tentino il tutto, purtroppo. Fa strano perché si dà per scontato che ormai, infatti abbiamo appena fatto la battuta al supermercato. Vanno ancora di moda le rapine, però sì, non è un buon sentore. Se si ritornano a queste cose, probabilmente i tempi non sono poi così rosi, come ce li descrivono. Forse non andrà proprio tutto bene, come continuano a dirci da tanti anni. Sicuramente non è una bella cosa. Comunque è successo anche a me di avere una rapina, abito in queste zone vicine. Nella sua abitazione o a un negozio? No, nell'abitazione, per cui so che comunque girano queste zone. Non è la prima volta che si sente. Che dalle cose era successo? Mi sono entrati, hanno aperto una finestra facendo un foro a fianco alla maniglia e mi hanno aperto, mi hanno fatto leva con qualcosa di ferro e sono entrati. Ero in casa? Ero in casa di notte. I rapinatori sono poi scappati in direzione Campo Nogara in sella ad uno scooter. Sul posto sono intervenuti i carabinieri.